Con questa fortissima iniezione di risorse e con il completamento anche del processo di revisione del codice degli appalti abbiamo le condizioni per ripartire. Ci sono più soldi anche nel periodo immediato, cioè le risorse per gli investimenti pubblici aumentano anche nel periodo 2017-2019 circa del 15%, quindi non sono solo poste di bilancio per un futuro a medio o a lungo termine, ma c'è un incremento sostanziale anche per quest'anno, l'anno prossimo e il 2019.